Cari lettori. Siete curiosi di sapere quali sono i film in tv nella prima serata di domenica 27 agosto, che prendono vita dalle pagine dei libri? La vostra rubrica giornaliera è pronta a presentarli. Dal libro Shining di Stephen King, il film Tiller Horror, Shining, in onda sul canale Iris alle ore 21. Dal romanzo La commedia umana di William Saroyan, il film drammatico, Itacca l'attesa di un ritorno, in onda sul canale tv 2000 alle ore 21 e 25. Faccio presente che il palinsesto potrebbe subire delle variazioni. Ora vediamo i dettagli. La trama del film Shining. In un isolato hotel in Colorado uno scrittore alcolizzato assunto come guardiano d'inverno impazzisce a causa di strani fenomeni e comincia a perseguire la propria famiglia con un'ascia. La trama del film Itacca l'attesa di un ritorno. Il 14enne Omer Macauley è determinato nel voler diventare il più veloce portalettere in bicicletta dell'ufficio del telegrafo. Da quando il fratello maggiore è partito per la seconda guerra mondiale, Omer deve occuparsi della madre vedova, della sorella maggiore e del fratellino di quattro anni. Mentre la primavera del 1942 lascia il passo all'estate, Omer trascorre i suoi giorni a recapitare messaggi d'amore, di speranza, di dolore e di morte, alla brava gente che popola Itacca, ricevendo presto un messaggio che cambiera per sempre la sua esistenza. Grazie per l'ascolto. Se sei un appassionato di adattamenti cinematografici tratti da libri, non puoi assolutamente perdere questa rubrica giornaliera. Ogni giorno troverai i film trasmessi in prima serata che prendono vita dalle pagine delle opere letterarie, offrendoti un'esperienza unica e coinvolgente. Ti invito gentilmente ad iscriverti al canale per non perdere nessuna novità e offrirti sempre nuovi spunti e consigli interessanti sul fantastico mondo dei libri. Un caro saluto.